ciao amici ieri sera avevo registrato questo acquarello come se fosse una diretta e questa mattina volevo postarlo così come era più o meno ci ho messo quasi un'ora a farlo però purtroppo è andata male perché si sentiva l'audio si sentiva proprio veramente male e quindi è una domanda che vi voglio fare vi piace vi piacciono più i video lunghi come praticamente se fosse una diretta oppure velocizzati è una domanda che mi sono fatto ieri sera e fatemi sapere che se a molte persone piacciono i video tipo la diretta mi acquisterò acquisterò un piccolo microfonino in modo di sentire bene l'audio e questo acquarello è tratto da una mia passeggiata all'alba in mezzo alla natura del mio paese e ho deciso di lasciarlo così senza voce solo con la musica sentivo una sinfonia per tutta la camminata la musica degli alberi e vi ricordo che se dopo una visione vi piacerà di lasciarmi un like vi fareste un grande piacere condividete prima volta vedi questo canale iscriviti che adesso sono in ferie e abbiamo anche tante cose da fare insieme io vi abbraccio e vi auguro tutto il bene del mondo e buona visione e buona melodia tra gli alberi un abbraccio grazie a tutti 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 grazie a tutti